Buonasera telespettatori e ben ritrovati con questa edizione regionale del nostro telegiornale In apertura alla cronaca bisognerà attendere l'autopsia per sapere le cause della morte dell'ingegnere bolognese Francesco Fabrio un ingegnere 46enne ritrovato morto carbonizzato nella serata di ieri nel suo ufficio a Idice di San Lazzaro di Savena nel bolognese Vediamo allora il servizio per saperne di più Contorni ancora poco chiari sulla morte dell'imprenditore bolognese soltanto l'autopsia potrà svelare la vera causa del decesso di Francesco Fabri ingegnere di 46 anni trovato semicarbonizzato ieri sera nel suo ufficio a Idice di San Lazzaro di Savena nel bolognese Il suicidio sembra l'ipotesi più probabile ma i carabinieri non escludono nessuna pista dall'omicidio all'incidente Gli investigatori si stanno muovendo dunque a 360 gradi L'esame sul corpo sarà assegnato nei prossimi giorni dal PM Antonello Gustapane anche se il primissimo riscontro del medico legale in serata parlava di asfissia In mattinata i militari sono tornati nell'edificio alla ricerca di tracce, benzina o altro combustibile per capire come sia partito l'incendio che ha distrutto in parte il locale Dopo l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme infatti l'ufficio era pieno d'acqua e di cenere A dare l'allarme sono stati i vicini che hanno riferito di aver sentito un rumore come di un piccolo scoppio ma è escluso che sia stato utilizzato dell'esplosivo altrimenti il suono sarebbe stato un vero boato dovuto all'innesco del rogo In particolare i carabinieri esamineranno nei prossimi giorni le carte nella stanza per vedere se ci sono anche dei messaggi Nell'auto dell'uomo infatti è stato trovato un appunto con il riferimento a debiti e ad una situazione economica insostenibile Ieri anche su questo sono stati sentiti la moglie dell'uomo e il suo socio nell'azienda di costruzioni, la Silpa, dove si è sviluppato l'incendio E ancora cronaca, purtroppo due anziani coniugi, lui di 89 anni, lei di 84 sono stati trovati morti in mattinata nella loro casa Granaglione sull'Apenino Bolognese Ad avvisare carabinieri e 118, il fratello della donna, nell'appartamento non ci sono segni di effrazione né sono stati riscontrati segni o lesioni sui corpi dei due pensionati Un'ipotesi è che l'uomo sia morto di morte naturale la moglie per disperazione abbia deciso di togliersi la vita I due abitavano soli e non avevano figli a quanto si è appreso, lei soffriva di alcune patologie e potrebbe essersi suicidata con un overdose di farmaci Le salme sono a disposizione dell'autorità giudiziaria nei prossimi giorni dovrebbe essere assegnata l'autopsia dal PM di turno Alessandra Serra Ed è rientrato proprio nel pomeriggio l'allarme per il giovane che si riteneva scomparso a Imola e nel pomeriggio sono state interrotte le sue ricerche si è appreso infatti che il ragazzo poco più che trentenne ha risposto ad una telefonata fatta sul cellulare dalla sua fidanzata mentre si trovava in un'altra zona del Bolognese L'angoscia per la famiglia era iniziata stamattina verso le 10 quando un passante ha notato un insolito biglietto appoggiato sul cruscotto di un'auto poi risultata del giovane parcheggiata nel Limolese Addio, era scritto sul foglietto che ha alimentato subito nei carabinieri il dubbio che il giovane potesse avere deciso di togliersi la vita gettandosi nel fiume poco lontano sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno scandagliato anche con il gruppo sommozzatori il greto del corso d'acqua e ispezionato l'intera zona poi dopo poche ore di panico la risposta alla telefonata della fidanzata con la quale aveva avuto un litigio resta da chiarire il perché di quel biglietto appoggiato sul cruscotto dell'auto che oltre alla scritta addio riportava altre frasi che potevano avvalorare l'ipotesi dell'annuncio di un gesto estremo i carabinieri comunque non escludono che nei suoi confronti possa scattare una denuncia per procurato allarme ed ora cambiamo argomento la chiesa di Bologna traccia un bilancio del 2011 il quadro che ne emerge è a luci ed ombre vediamo di capire perché in questo servizio di Alessia Salvatori è la famiglia il personaggio dell'anno per Bologna 7 inserto di avvenire curato dal Centro Servizi Generali dell'Arcidiocesi Felsinea la nostra scelta si legge sull'inserto è caduta sulla famiglia perché crediamo che nel bene e nel male sia stata davvero la protagonista dei 12 mesi ormai agli sgoccioli nel bene viene osservato perché non sono mancate testimonianze straordinarie e qui il quotidiano cita le mamme delle due piccole Agata o i genitori delle due gemelline siamesi nel male perché viene aggiunto anche nel 2011 abbiamo dovuto registrare attacchi pesanti contro la famiglia soprattutto, spiace a dirlo, dalle istituzioni due in particolare i casi individuati il ticket sanitario della regione fortemente discriminatorio e il recentissimo caso della consulta comunale dove le associazioni familiari cattoliche sono state costrette a uscire dopo l'inserimento della stessa consulta di associazioni vicine al mondo omosessuale l'intero numero di Bologna 7 è dedicato alla famiglia chi viene sottolineato ancora nonostante tutto è ancora viva e lotta insieme a noi e quello che si sta per chiudere dunque è stato un anno difficile sia dal punto di vista economico che politico le famiglie sono state messe a dura prova dalla crisi ma nonostante le difficoltà è emerso uno spirito solidale di comunità secondo l'arcivescovo di Modena e non Antola, Monsignor Antonio Lanfranchi sono queste le priorità, le premesse su cui si dovrà puntare per il 2012 vediamo allora questa intervista a Monsignor Lanfranchi realizzata dalla corrispondente di Modena Anna Ferri L'anno che si sta concludendo, il 2011, è stato un anno molto difficile la crisi economica e politica ha messo a dura prova alle famiglie qual è il suo bilancio? la Chiesa fa terminare l'anno con il Tedeum quindi con un inno di ringraziamento a Dio perché questo ringraziamento? perché se noi mettessimo sulla bilancia le cose positive e quelle negative probabilmente andremmo in rosso quindi non avremmo motivi per ringraziare eppure sentiamo il bisogno di ringraziare perché nonostante i tempi cattivi abbiamo avuto il grande dono della vita credo che anche a Modena si notino questi due aspetti da una parte una crisi che si accentua sempre di più dall'altra però anche l'emergere dell'animo buono che c'è ecco nei modenesi quindi un cuore buono che porta a tirare fuori anche le risorse ad aprirsi con generosità ai bisogni dei più deboli a sostenersi reciprocamente e siamo ormai a poche ore dal Capodanno veniamo dunque al Veglione che si svolgerà anche a Bologna in Piazza Maggiore come in altre città dell'Emilia Romagna i botti in piazza non sono stati vietati ma come già negli anni passati il Comune ha vietato la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine dalle 20 di questa sera dunque alle 8 di domani del 2012 in Piazza Maggiore e in gran parte del centro storico non sarà possibile vendere bevande in contenitori di vetro o lattine ma solo in bicchieri di carta o plastica per i festeggiamenti della sera saranno chiuse al traffico le strade della T via Rizzoli via Indipendenza via Ugo Bassi con l'eccezione naturalmente dei mezzi di soccorso questa sera appuntamento in Piazza Maggiore con i canti gospel anche in provincia di Bologna tutti pronti a festeggiare per l'arrivo del nuovo anno a San Lazzaro di Savera, alle porte di Bologna a partire dalle 23, musica ed animazioni, brindisi e festa in Piazza Bracci, poi alle 24, rogo del Vecchione e fuochi d'artificio per dare il benvenuto a questo nuovo anno e anche Modena si prepara naturalmente a festeggiare la notte più lunga dell'anno questa sera a partire dalle 22, grande festa in Piazza Grande con il concerto dei Modena City Ramblers banditi però i fuochi d'artificio il sindaco ha infatti detto no a botti e petardi in centro storico vediamo il servizio di Federica Galli Musica e brindisi a mezzanotte ma senza botti Modena si prepara a festeggiare il suo capodanno all'insegna del divertimento sicuro a scaldare l'ambiente sul palco allestito in Piazza Grande saranno a partire dalle 22, tre band giovanili con ladici rigorosamente locali per il conto alla rovescia salirà poi per il brindisi e gli auguri il sindaco Giorgio Pighi subito dopo cominceranno con il loro folk rock i Modena City Ramblers che esordirono al circolo Vienna 20 anni fa e che da allora portano in tour per l'Italia il nome della città per gli amanti del centro storico ricordiamo che Modena come molte altre città italiane ha deciso quest'anno di vietare i botti nella notte fra il 31 dicembre e il primo dell'anno nelle piazze principali un'ordinanza del sindaco Giorgio Pighi ne vieta l'uso in Piazza Grande attorno a Duome Ghirlandina oltre che nelle piazze a Roma Mazzini Matteotti 20 settembre Largo Sant'Agostino la polizia municipale è già al lavoro per contrastare la venita abusiva di fuochi d'artificio ma questa non è che una delle opportunità per San Silvestro anche a Modena la crisi spegne il Capodanno molti modenesi rimarranno a casa in compagnia di amici e parenti per una serata alternativa però comodamente seduti c'è anche il Capodanno a teatro sia a Modena come a Carpi al Michelangelo la serata sarà ricca di musica e divertimento grazie alla compagnia della More col suo musical show che avrà come colonna portante le famose musiche degli Abba al comunale di Carpi invece ci aspetterà l'arrivo del nuovo anno sulle note dei waltzer viennesi con il concerto dell'orchestra sinfonica di Verna diretta dal maestro Enrique Batitz Campbell sul fronte meteorologico infine va detto che in provincia di Modena l'ultimo giorno del 2011 sarà accompagnato da freddo e nuvole mentre il 2012 inizierà con il sole su quasi tutto il paese attraverso un video i carabinieri di Bologna hanno rivolto a tutti gli utenti della strada che dopo aver festeggiato si metteranno in macchina alla guida una raccomandazione a farlo adottando tutte le prudenze necessarie per evitare gravi conseguenze presenti come sempre sulle strade nella notte di Capodanno per impedire eccessi pericolosi di velocità i carabinieri hanno così voluto sottolineare che la migliore prevenzione agli incidenti stradali dovuti all'abuso di alcol la faranno gli stessi cittadini con il buonsenso e la prudenza vedete le immagini registrate appunto dai carabinieri per questa occasione un augurio da parte delle forze dell'ordine insolito ed originale ma si spera comunque efficace e la pagina politica per il 2012 la Lega Nord a Reggio si presenta agguerrita pronta ad aumentare le sezioni in provincia e registra anche un aumento di iscritti e militanti intanto scalda i motori in vista delle celebrazioni del 7 gennaio in cui si dice pronta a contestare la visita del capo del governo Isabella Trovato Angela Alessandri cosa farà la Lega Nord il 7 gennaio? Scende in piazza per manifestare contro il governo Monti? Noi saremo in piazza sicuramente davanti al Teatro Valli e faremo capire a Monti come ha dichiarato oggi visto che non si è ancora reso conto che gli italiani ce l'hanno con lui e faremo capire che a Reggio Emilia invece l'aria è diversa e se è così diversa Reggio sarà diversa anche da altre parti La Lega Nord non parteciperà alle iniziative istituzionali del 7 gennaio in cui Reggio sarà blindata per l'arrivo del presidente del Consiglio Mario Monti e anzi sarà dall'altra parte della barricata dalla parte di chi contesterà l'attuale governo così come fanno in Parlamento gli onorevoli del Carroccio che oggi rappresentano l'opposizione e quanto è stato annunciato in conferenza stampa dai vertici reggiani l'onorevole Angela Alessandri il segretario provinciale Gabriele Fossa Giacomo Giovannini capogruppo in comune a Reggio e Stefano Tombari capogruppo Lega Nord in provincia da qui un appello ai cittadini a manifestare al fianco del Carroccio davanti al Teatro Valli La Lega ha avuto la sua occasione per fare qualcosa al governo Monti oggi c'è perché la Lega non c'è riuscita insieme a Berlusconi forse è così? No, non è così noi siamo stati aggrediti da una crisi internazionale molto pesante noi quando abbiamo potuto fare qualche intervento proprio per mettere a posto i conti abbiamo sempre cercato di avere come farlo di non toccare le pensioni di non aumentare le tasse questo non l'abbiamo mai fatto abbiamo tolto anche l'ICI che era una tasso odiosa perché era quella sulla prima casa visto che l'84% di italiani ha la casa di residenza di proprietà ci sembrava odiosa l'abbiamo tolta con molti sacrifici lui appena arrivato l'ha reintrodotta ha aumentato gli estimi ha aumentato gli indici per cui radduppia o triplica per tutti intanto per il 2012 la Lega mira a fortificare la presenza in montagna con la creazione di tre nuove sezioni mentre su tutto il territorio registra un aumento del 35% degli iscritti dal 2010 ad oggi e il 15% in più di militanti e con la politica si chiude questa edizione serale del nostro telegiornale regionale grazie a tutti per averci seguito a questo punto non mi resta che augurarvi una buona fine d'anno e naturalmente a tutti voi un sereno 2012